Esordio assoluto per la Superbike sul circuito spagnolo di Navarra, un esordio assoluto che è buono più che altro per le statistiche vista la non spettacolarità delle gare offerte dalle derivate dalla serie e quantomeno in questo weekend Toprakras Gattioglu si avvicina del tutto a Jonathan Ray e come qualche tappa fa va di fatto a occupare la leadership del campionato mondiale seppur appare in merito con il nord irlandese è ancora una volta un round di Superbike che consacra tre piloti sopra tutti gli altri come prestazioni e come rendimento in pista ed è effettivamente una lotta a tre tra Scott Redding, Toprakras Gattioglu e Jonathan Ray non soltanto qui a Navarra ma soprattutto per il campionato del mondo perché Jonathan Ray qui dovrà ancora una volta difendersi così come è successo a Mosto nell'ultima tappa del mondiale Superbike ed è appunto per quello che gli altri due contender del titolo del mondo sono venuti fuori e alla stragrande in particolare due gare su tre le vince Scott Redding, la terza la vince Toprakras Gattioglu con un autentico capolavoro ed è per quello che abbiamo il pari merito al testa del campionato con quota 311 punti ma andiamo con ordine e partiamo dalle gare del sabato in questo pistino di Navarra che appunto è all'esordio assoluto nel mondiale Superbike Superbike è un circuito dove ha corso prevalentemente il CEV Moto3 e i campionati nazionali spagnoli di Superbike il mondiale non ce l'hanno mai corso, è un circuito, prima di entrare nel podcast faccio questa premessa del caso che è forse più adatto per le Supersport 600 e forse per le 300 anche se quei 300 non ci hanno corso tutte e tre le gare di Superbike hanno avuto appunto delle gare di strategia, gare di tempi più che gare di sorpasso perché appunto anche se è fatto apposta per le moto il circuito di Navarra offriva pochissimi punti di sorpasso eppure offrendo pochissimi punti di sorpasso abbiamo avuto la dimostrazione che il mondiale Superbike è equilibratissimo tra appunto i big three della disciplina e abbiamo avuto la dimostrazione che Jonathan Ray è al limite e che qui ancora una volta ha dovuto difendersi, ne fanno le gioie in due gare su tre Redding e Razgatioglu in particolare due su tre appunto le vince Scott Redding, gara 1 la vince di fatto imponendo un passo superiore alla concorrenza di fatto da metà gara in poi in gare di Ducati va effettivamente a dominare e a gestire un vantaggio ampio sulla concorrenza Scott Redding che peraltro ha annunciato il suo addio alla Ducati al termine di questa stagione e si accaserà in BMW ufficiale che a sua volta ha mandato alla porta Tom Sykes Ducati peraltro riprenderà Alvaro Bautista dopo la stagione molto deludente del 2019 e voi mi direte ma come Bautista ha vinto 11 miliardi di gare nel 2019? vero ma se vinci 11 miliardi di gare e poi il mondiale lo vince Jonathan Ray probabilmente è evidente che qualcosa non sia andato al netto che a me i ritorni di fiamma non mi piacciono e auguro comunque a Bautista fare meglio il 2022 dobbiamo concentrarsi sul presente come difusione della Ducati dobbiamo celebrare Scott Redding per le due vittorie di gara 1 e di Superpol Race due vittorie molto diverse perché appunto in gara 1 Redding con il passo superiore riesce comunque ad averla meglio di Ray e Razgatioglu letteralmente in quest'ordine in Superpol Race quindi la gara della domenica mattina il podio rimane invariato ma qui la concorrenza quindi sia Ray sia Razgatioglu hanno fatto un passo in avanti tanto è vero che di fatto Redding qui la vince in volata a discapito di Johnny Ray che comunque pur essendo al limite e lo vedremo soprattutto in gara 2 con delle manovre in curva 9 che fanno rischiare tutte le volte il nordlandese di cadere insomma non avevano comunque la possibilità di battere uno Scott Redding in questa condizione anche perché sul l'unico rettenino di Navarra il motore della V4R Panigale faceva il suo il problema è che Redding appunto non aveva la stessa confidenza che in gara 1 dove gli veniva tutto bene sfruttando comunque le caratteristiche della pista e in particolare i settori 2 e 4 Redding la porta a casa battendo in volata Jonathan Ray e terzo è top a Razgatioglu così come in gara 1 il turco però si rifarà ampiamente in gara 2 con una gara a capolavoro gestendo una partenza ravvicinata perché ricordiamo che in Super Bowl Race i primi 9 classificati partono nelle prime 9 posizioni della gara 2 e per Razgatioglu partire terzo anziché ottavo come in qualificazione è stato un bene assoluto perché appunto Razgatioglu ha potuto dimostrare di aver avuto il passo per giocarsi il podio parlando da più indietro e la vittoria partendo effettivamente da più avanti e dunque se nelle prime due gare ha suonato God Save the Queen per Scott Redding suona la marcia dell'indipendenza per top a Razgatioglu l'inno nazionale turco una gara veramente importante quella di Razgatioglu che di fatto la comanda fin dalle primissime battute dopo una grande bagarre sulla pistina di Navarra che appunto già di sorpassi ne ha fatti vedere pochi eppure nella gara 2 della domenica che quindi si è appena conclusa da poco effettivamente i big 3 ci sono dati battaglia dopodiché le posizioni sono un attimo cristallizzate fino al momento decisivo dove di fatto Ray dovrà abdicare anche per la seconda posizione perché se effettivamente andiamo a vedere la classifica della gara 2 di Navarra è vero vince dopo la classifica di Oglu ma secondo è Scott Redding e terzo è Jonathan Ray che si è vero limita ancora una volta i danni si è vero è al limite e non è effettivamente il pacchetto migliore con questa Kawasaki ma comunque rimane sempre il solito Cannibal rimane sempre il solito Jonathan Ray un pilota che se sbaglia fa podio è vero è caduto una volta quest'anno a Most ma comunque rimane sempre uno dei piloti più costanti di questa categoria e ci vuole effettivamente un top a Razgatioglu in versione 5 sterile extra lusso per agguantare di forza e di prepotenza la leadership del campionato ma come dicevo all'inizio del video all'inizio del Racing Podcast è un campionato a 3 perché Scott Redding nelle ultime 4 gare ne ha vinte 3 ed è effettivamente anche lui tornato in corsa per il titolo del mondo sono 38 adesso i punti che separano Redding dai due battistrada e a settembre si correrà a Manicur a inizio settembre di fatto il 4 e il 5 è effettivamente una gran bel campionato Superbike quello che ci sta offrendo l'annata 2021 è vero è un po' monota da certi punti di vista se vogliamo perché ci sono sempre i soliti tre piloti che sappiamo che partono per giocarsi le posizioni dei primi tre è evidente però che se continua a vincere uno diverso e soprattutto per lo spettacolo vince meno Jonathan Ray che è il leader incontrastato da anni di questa categoria è indubbio che lo spettacolo ci sia e dunque ci sono i motivi per vedere il campionato Superbike fino alla fine peraltro con la gara di Navarra il mondiale Superbike è arrivato al giro di Boa perché appunto abbiamo concluso la settima tappa e ce ne sono 13 in programma si partirà dunque a Manicur e si chiuderà in Indonesia per la seconda parte di fatto della stagione è comunque un mondiale che non solo certifica i Big Three la scuola di Redding in quest'ordine come appunto i piloti da battere e che se tutto va come deve andare loro tre partono tutte le volte per il podio è comunque una cosa particolare a notare altre due situazioni la prima che nelle prime due competizioni quindi sia sprint race sia gara 1 del sabato i primi sei sono sempre stati gli stessi in quest'ordine ed è di fatto lo stesso ordine che abbiamo visto anche nella gara 3 di fatto o gara 2 se vogliamo usare il termine più consueto perché comunque i primi sei sono sempre stati la scuola di Redding, Sykes, Lowes e Locatelli logicamente nelle prime due gare stesso ordine esattamente come vedete in grafica l'unica cosa che ha cambiato è che Sykes è arrivato quinto anziché sesto a discapito di Alex Lowes ma comunque c'è stato un compattamento anche dei valori più nella seconda parte del mondiale superbike ma comunque c'è ancora una volta gloria per la superbike italiana perché come ho detto a most la superbike italiana sta crescendo ed è veramente bello parlare di tanti piloti italiani in questo caso tutti nelle prime dieci posizioni quando soprattutto più conta quindi nelle gare lunghe e in particolare dobbiamo fare un plauso ad Andrea Locatelli che è il campione regnante di super sport in carica è arrivato in superbike in una squadra molto scomoda perché la Yamaha ufficiale presenta Top Park Zetiogo che di fatto il mondiale lo parte per vincerlo assolutamente eppure Locatelli da Assen in poi ha dimostrato di crescere tantissimo è ufficialmente la quarta forza del campionato senza se e senza ma o se preferite è il primo degli umani perché i week 3 sono inavvicinabili ma dietro c'è Andrea Locatelli che ha fatto 5 quarti posti consecutivi e al quinto posto solitario di fatto nelle mondiali superbike può attentare secondo me a lungo andare al quarto posto di Alex Lowe che comunque da qualche gara a questa parte non ne sta azzeccando più di tanto insomma è talmente un bel risultato che è giusto celebrare Locatelli e insinirlo secondo me del premio di rider del giorno perché evidentemente è vero i big 3 fanno uno sport a parte ma essere il primo degli umani soprattutto per un rookie perché appunto Locatelli e l'esordio in questa categoria è veramente tanta tanta roba l'Italia si comporta altrettanto bene con un sempre più sorprendente Axel Bassani che anche lui fa una top 10 ripetuta perché nelle gare lunghe quindi sabato pomeriggio ed domenica pomeriggio fa ottavo e decimo finisce dodicesimo invece nella sprint race che però non dà dei punti ma anche Axel si merita un altro premio di rider del giorno ancora una volta è uno dei migliori indipendenti vero c'è da battere Gareth Gerloff che però è molto incostante Gareth Gerloff oggi invece è una delusione del giorno perché col passo che aveva poteva fare molto di più di ottavo e nono invece discorso diverso per Axel Bassani va fatto perché evidentemente con una moto privatissima fare sempre o spesso top 10 è tantissima tantissima roba il terzo italiano è paradossalmente quello che purtroppo ha deluso di più ma non per talento puro ma per i mezzi che ha perché la seconda locata ufficiale è un po' stecca soprattutto nella gara del sabato decima posizione per Rinaldi in ogni caso è una buona prestazione quella di Rinaldi per le sue potenzialità in questa pista hanno una pista molto congeniale alle sue caratteristiche ma comunque discreta settima posizione al netto che per dispersione il miglior italiano oggi è stato Andrea Locatelli è un round di superbike dunque che come circuito in sé non mi ha ben entusiasmato preferisco altri circuiti più tecnici vedi per esempio Most e in realtà al posto di Navarra sinceramente mi piacerebbe vedere circuiti più spettacolari vedi per esempio l'arena di Oberstlejen o anche Imola per dare appunto una volta risalto alla nostra nazione fatto sta che comunque Navarra ha di fatto di nuovo riaperto il mondiale 311 punti per Top of the Raza 311 punti per Giotta Ray e il 4-5 settembre si corre a Manicur per il Gran Premio di Francia stesso discorso varrà per la Supersport anche se qui probabilmente il mondiale è molto ben indirizzato verso la Svizzera perché ancora una volta abbiamo due vittorie consecutive di Dominic Gerter l'autentico dominatore di questa categoria e ancora una volta ha dimostrato qui a Navarra di avere un passo superiore alla concorrenza fin dalla qualificazione del sabato lo Svizzero rifila 6 decimi alla concorrenza al secondo e figuriamoci a tutti gli altri e poi in gara fa di fatto quello che vuole e in entrambe le competizioni sia quella del sabato che quella della domenica ha la meglio di Steven Odenal e del sorprendente Luca Bernardi così come in Superbike le prime due gare hanno avuto gli stessi protagonisti sul podio stesso discorso Varley per la Super Sport 600 primo Dominic Gerter in entrambe le gare e per entrambe le volte suona il Salmo Svizzero secondo Steven Odenal che perde ancora una volta punti rispetto a Gerter ma di fronte a questo pilota svizzero era evidentemente difficile fare di più e terzo uno straordinario strepitoso Luca Bernardi che torna sul podio dopo diverse tappe di pausa l'ultimo podio se non sbaglio fu a Misano Adriatico dove peraltro io sono stato da vivo a vederlo ed è comunque ancora una volta la consacrazione di questo rookie italiano meglio San Marinese campione italiano di Super Sport tra l'altro per un mondiale Super Sport per il suo futuro veramente veramente interessante quando dicevo che invece il mondiale è relativamente chiuso lo vediamo in questa classifica perché a 5 tappe dal termine ci sono 47 punti di stacco tra Egerter e Odendal ma Egerter ha vinto di fatto tutte le gare tranne quella di Most partendo da Estoril segno che il pilota svizzero è evidentemente di un altro livello e quindi per tutta la concorrenza è veramente difficile fare tanto di più ripetiamo straordinario Luca Bernardi che con questo doppio podio di fatto va al quarto posto solitario in questa classifica a pochi punti di distacco da Philippe Ötter che comunque è un pilota rispetto a Bernardi con più palmaresse e finire terzo all'esordio per Bernardi sarebbe veramente un trionfo assoluto c'è gloria anche per Federico Caricasulo che di fatto da Most ha cambiato team adesso corre con il team Biblion Moto X Racing sempre su Yamaha eppure da quando ha lasciato GMT 94 il pilota Ravennate ha fatto veramente il click che tanto ci attendevamo perché ricordiamo che Caricasulo è già un esperto di questa categoria era vice campione mondiale nel 2019 è venuto indietro dalla Superbike dopo la stagione discreta comunque nel 2020 fa quinto e quarto e dunque anche qui tanta gloria per di fatto l'Italia dei motori in questo caso della Super Sport 600 che porta comunque a punti Raffaele De Rosa con un nono posto in gara 2 e per il resto non ci sono altri nostri portacolori in zona punti il mondiale della Super Sport anche lui tornerà a Magnycourt con appunto ancora una volta il consigliamento eventuale di Egerter al titolo del mondo ci sarà anche la Super Sport 300 per completare dunque il pacchetto completo del mondiale delle derivate dalla serie che comunque avrà la tappa di Francia e in Superbike attenzione dunque al duello tra i Big 3 in particolare in prima fila ci sono Lasgatioglu e Ray con Ray forse leggermente indietro visto che appunto da due gare la moto è di fatto al limite e anche nella gara 2 Jonathan Ray ha rischiato più volte di cadere appena dietro c'è Scott Redding che comunque sta avendo la testa giusta per provare a competere per il titolo certo è venuto forse un po' tardi Scott Redding e sta pagando una parte centrale di stagione non probabilmente all'altezza ma comunque per il titolo del mondo c'è anche lui c'è anche l'Italia della Superbike che può puntare a piazzamenti costanti in top 10 e lo vedremo a partire appunto da Manicur il 4 e 5 settembre logicamente il Racing Podcast però non uscirà perché sarò in quel momento in vacanza e dunque ci sarà appunto tempo per la programmazione estiva prima di salutarvi del tutto il prossimo Racing Podcast sarà martedì 31 agosto se non sbaglio un Racing Podcast che parlerà della Formula 1 che correrà a Spaffranco un champ che non vedrò in diretta perché sono impegnato io per altri motivi sportivi non uscirà invece se non tramite stravolgimenti incredibili il Racing Podcast della MotoGP che correrà in contemporanea con Spaffranco un champ a Silverstone per i medesimi motivi logicamente io do priorità a Formula 1 e Superbike la MotoGP viene relativamente dopo e quindi non avrebbe senso fare un Racing Podcast della settimana dopo su una gara che di fatto recupererò in differita e praticamente spoilerata perché è di fatto impossibile oramai evitare gli spoiler se non facendo i numeri veramente da circo fatto sta che invece con gli appuntamenti sportivi ci rivediamo comunque a inizio settembre appunto con il post-gara Gran Premio di Formula 1 e poi parleremo o logicamente anche di MB prima che io vada in vacanza una settimana intanto fatevi sapere che pensate di questo mondiale Superbike se vi è piaciuta la gara di Navarra chi vedete favorito tra Razer Tirogo e Jonathan Ray in ogni caso questa è la conclusione degna del Racing Podcast di oggi e dunque appuntamento tra una decennia di giorni circa e saluto da parte di Matthew Thorgard ci vedo dunque al prossimo video Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori